ciao a tutti adesso questo pinguinetto vi insegnerà un giochino per scaricarvi un po lo facevo anch'io quando ero piccola e si chiamava l'asino vola noi lo faremo facendo dei saltelli giocate con qualcuno la mamma o il papà o qualcun altro che potrà giocare con voi e dovrà dirvi tante cose una dopo l'altra che volano o non volano se volano dovrete fare un bel salto verso l'alto se non volano accucciarvi per terra state attenti perché se la mamma o il papà o chi gioca con voi vi dirà due cose che non volano una dopo l'altra dovrete restare accucciati e non alzarvi in piedi proviamo vola 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 l'aereoplano vola 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 il tavolo vola non vola il tavolo bravo pinguinetto vola 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 la bottiglia vola 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 la farfalla vola 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 l'automobile vola bravo pinguinetto non hai mai sbagliato vi è piaciuto questo gioco allora potrete farlo a casa ora vi farò vedere anche un altro modo in cui potete giocare prendete due foglietti disegnate su un foglietto qualcosa che vola e lo attaccate sul pavimento con un pezzettino di scotch io ho disegnato un aquilone e sull'altro foglietto una cosa che non vola io ho disegnato un tavolo questa sarà la casa delle cose che volano e questa la casa delle cose che non volano si gioca come prima quando papà o mamma o qualcun altro vi dirà il nome di una cosa che vola saltate nella casetta delle cose che volano quando vi dirà il nome di una cosa che non vola saltate nella casetta delle cose che non volano vi faccio vedere pronti via l'ape vola 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 la farfalla vola 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 la libellula vola 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 il pavimento vola 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 il letto vola 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 l'elicottero vola 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 la pentola ok avete capito come giocare buon divertimento